Vai! Olè, pronti per la carica? Siamo forti, forti come un toro! Fate uscire il torero! Tutti quanti! Angelo! Tutti quanti! Angelo! Tutti quanti! Ciao, sono Giulia, otto anni, vengo da Guidonia in provincia di Roma. Lui è Davide, guarda il suo video! Ragazzi, indovinate di cosa parla il prossimo pezzo. Di un orango? Di un topolino? Basta, dicelo tu! Ragazzi, sta arrivando la nuova scelta del cartone dello zecchino d'oro! Via!